In un'autostrada calabrese sono stati conclusi gli interventi su circa 140 chilometri per un importo di 42 milioni di euro. Si tratta della A2, autostrada del Mediterraneo, dove è stata completata la Green Island della Smart Road a Montalto Fugo, in provincia di Cosenza. Quella del parcheggio con tessa soprana tra gli svincoli di Montalto e Torano è una delle prime infrastrutture tecnologicamente avanzate presenti in Europa. La Green Island appunto rientra in un importante piano di sviluppo tecnologico dell'autostrada attraverso l'installazione di tecnologie smart necessarie al controllo e al monitoraggio del traffico, nonché alla diffusione delle informazioni all'utenza, attraverso sistemi che consentono il dialogo tra i veicoli stessi ed i veicoli con la strada. Allo stato attuale, dicevamo, sono stati completati interventi su circa 140 chilometri. Lungo i tratti autostradali tra Campania, Basilicata e Calabria sono state già installate 800 postazioni polifunzionali, dotate di telecamere 4K, sistema di intelligenza artificiale e sensori che inviano 24 ore su 24 dati alla sala di controllo, collegati tra loro da fibra ottica. Sono in corso lavori di realizzazione di ulteriori 94 chilometri, ricadenti nel tratto compreso tra Fisciano, Sala Consilina, Morano Calabro, Cosenza Nord, Altilia Grimaldi, La Mezzia Terme e Villa San Giovanni. L'intera rete infrastrutturale è in fase di completamento ed i moduli che sono stati completati sono attualmente in fase di test.